Per un po' i Thundermen hanno tenuto tutti all'oscuro. Ma ora che il loro segreto è stato svelato, tutti vogliono un pezzo dei loro supereroi preferiti. Riusciranno a mantenere il sangue freddo? Oppure tutto quanto salterà in acqua? La loro vita cambierà. Scoprilo nei nuovi episodi dei Thundermen da lunedì 27 marzo, solo su Nickelodeon. Grazie a tutti.